Royal Canin ha sviluppato una gamma specifica per le razze, tenendo in conto la peculiarità di ciascuna. Il West Island o Westy è una razza con un pelo duro e una pelle delicata, quindi questo cibo promuove la sintesi del pelo, un pelo lucido e la salute della pelle, riducendo il rischio di irritazioni cutanee. Inoltre l'alimentazione aiuta a ridurre il tartaro e la placca dai denti dell'animale ed è un alimento con alta digeribilità e appetibilità.